Prosegue con grande successo di pubblico la mostra da moneta unica a unica moneta, 200 vignette umoristiche sui primi 10 anni dell'euro. L'esposizione promossa dal Consiglio regionale è stata curata da Dino Aloi. La mostra è aperta al pubblico nella sede di Piemonte Artistico e Culturale, piazza Solferino 7 a Torino, fino al 14 aprile, tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19.30, esclusa la domenica. Ricca la rassegna dei articoli che parlano dell'iniziativa, finora sono almeno tante le citazioni tra notiziario online e carta stampata, ma ne hanno dato notizie anche GR2Rai, Telenorba, emittente televisiva molto seguita nel sud Italia, la radio polacca, la televisione francese France 3 e l'agenzia di stampa della Turchia.